L'ipotesi di Creti è una soluzione scellerata che il ministro Salvini ha ipotizzato esclusivamente per una finalità di carattere elettorale per far contenta la candidata di centrodestra dell'Umbria, se vuole fare contenta all'Umbria faccia questa stazione in Umbria ma non può pensare di farla in Toscana senza che porti un vantaggio ai toscani e senza la condivisione della regione toscana. Una stazione in Toscana senza l'intesa della regione toscana non la si fa, quindi mi sembra evidente che siamo di fronte alla propaganda. Stefano Scaramelli e Vincenzo Ceccarelli, rispettivamente capigruppo di Italia Vive e Partito Democratico in Consiglio regionale, hanno ribadito ancora una volta la forte contrarietà all'annuncio del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sulla scelta della località di Creti come localizzazione della nuova stazione Alta Velocità Medio Etruria, un no tanto chiaro quanto compatto. La maggioranza di centro-sinistra che governa la nostra regione è contraria a questa ipotesi e quindi possiamo dare un elemento di garanzia a cittadini toscani che questo intervento non verrà fatto fin quando la regione toscana non condividerà una soluzione alternativa. È evidente che è necessario un interscambio gomma-gomma, ma soprattutto un interscambio gomma-rotaia o rotaia-rotaia. Soluzioni alternative possono esistere, ma sicuramente questa avanzata dal ministro Salvini non ci trova assolutamente d'accordo. Su questo abbiamo voluto manifestare la nostra opinione, che è un'opinione condivisa e come tale la contrastiamo dal punto di vista anche non soltanto tecnico, ma soprattutto politico. Non serve ai toscani, non si può fare un intervento in Toscana senza la condivisione della regione toscana. Noi chiediamo al ministro Salvini eventualmente di venire anche in Toscana, magari di venirci ora, non di venirci quando ci saranno le elezioni ad Arezzo o le elezioni in Toscana, ma chiediamo anche un'altra cosa, che è quella di dimostrare invece un'attenzione e di fare fatti concreti, aumentando le corse delle fermate a V ad Arezzo e prevedendole anche a Chiusi.